Cichini, siamo prossimi alle vacanze pasquale, quindi si incomincia a riparlare di potenziale ricettivo della città di Fano. Qual è in questo momento la situazione? È abbastanza discreta. I nostri albergatori e operatori del turismo hanno creduto a questo evento che la regione Marche ha creato, che è stato un grosso contributo per la ristrutturazione. Noi abbiamo circa 17 strutture, fra alberghi, campeggi e case vacanze, che hanno creduto per un valore di circa 7 milioni di euro. Quindi un importo importante. Rispetto ai nostri vicini, com'è la situazione? Noi abbiamo sentito che a Pesaro hanno aderito solo 10 strutture, per un valore di circa 4 milioni di euro. Quindi la prospettiva è di avere strutture sempre più all'avanguardia, sempre più aderenti a quelle che sono le richieste dei turisti moderni? Sì, naturalmente diventeranno dei bike hotel e naturalmente cercheremo di dare anche sempre un qualcosa in più alla richiesta del turista. Anche sul trekking, sulle strutture e naturalmente all'avanguardia che vengono richieste dai nostri turisti che vengono a Fano. Ecco, pochi giorni, poi si va verso il weekend pasquale. Com'è la situazione a livello di prenotazione? Discreto, abbiamo fatto un sondaggio anche ultimamente negli alberghi, va abbastanza bene. Naturalmente qui siamo legati al tempo, il tempo è quello che ci lega più di tutti.